Signori, eccoci qui, nelle pagelle probabilmente più semplici di tutto l'anno. Milan Sassuolo 6 a 1, abbiamo passato il turno, abbiamo fatto riposare qualche calciatore, non abbiamo sofferto per nulla, dopo 20 minuti stavamo già con la copertina pronti ad andare a dormire, non si è fatto male nessuno, quindi tutto perfetto. Like per la serie delle pagelle, like perché le pagelle devono essere il video sempre con più like del canale, mi raccomando, conto su di voi, dagli è così. Sotto nei commenti, se vi va, scrivetemi il vostro migliore e peggiore in campo, se volete fatemi anche tutta la lista e datemi un voto a Fonseca. Voglio un voto da Fonseca da parte di tutti voi, voglio vedere come valutate Fonseca in questo momento preciso della stagione. Allora, partiamo subito con Sportiello che gli do 6, spettatore non pagante, praticamente si guarda la partita, Torriani che entra nel secondo tempo, purtroppo 5 e mezzo perché c'è un errore. Poi, Torriani è un portiere di grande futuro, ha tantissima fiducia in lui, probabilmente l'avrei fatto anche giocare perché entrare così non è tanto una cosa positiva. Si rifarà, sicuramente è un portiere dalle grandi doti, ha fatto anche una buona parata poi nel secondo tempo, però diciamo che sul gol poteva fare qualcosina in più. Ma il Milan può finire senza subire gol? Beh, diciamo che Torriani ha detto no, non si può. Passiamo adesso alla difesa, Tomori 6-1, un po' troppo facile da saltare ieri, Mulattieri l'ha messo un po' in difficoltà, l'ho visto un po' che si è incartato, ha perso pure un pallone che stava diventando sanguinoso. Un Tomori un po' sbadato, il solito Tomori che un po' va, un po' viene, ormai sembrerebbe aver perso il posto a titolare perché Gabbia ormai è intoccabile. Ciao sta garantendo più fiducia rispetto a lui e quindi un Tomori che sembra anche molto deluso da questa situazione. E ieri che poteva fare una prestazione incredibile e straordinaria ha fatto un'altra prestazione, diciamo che rasenta la sufficienza, cioè un 6-1 proprio ti sto volendo bene perché abbiamo vinto, non siamo andati in difficoltà, però la sua prestazione non è stata esaltante. Come invece è stata esaltante quella di Pavlovich che gli dò un bel 7 perché ieri ha fatto un paio di interventi proprio mamma la Franco Baresi, cioè quell'intervento sempre da ultimo uovo ormai è diventato il suo intervento, cioè è rischiosissimo, cioè Pavlovich è uno che ti rischia almeno 3-4 rossi all'anno perché fa sempre quegli interventi a punta di centimetro che si fa sbagliare di un millimetro, bom, falce all'avversario, rigore, espulsione e tutti quanti a casa. Quindi ieri però gli ha azzeccati, gran bella partita, anche di personalità l'ho visto molto spesso andare all'anticipo non avendo paura degli avversari e diciamo che in un periodo in cui non stava in formissima è stata una buona risposta da parte di Pavlovich, quindi se Pavlovich sale Tomori scende ancora di più nelle gradatorie. Calabria, voto 6-5. È iniziata la sua partita un po' così e così, si è fatto saltare, però poi piano 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 ha dato sempre più a crescere per poi concludere con l'apoteosi, ha fatto anche gol e quando fa gol ragazzi non si può dire nulla. Calabria sicuramente io penso che sia lo stesso livello di Emerson Royale non riuscirò mai almeno per questa stagione a dire meglio uno e meglio l'altro sicuramente se mi chiedete chi faresti giocare sarei sempre in dubbio. Ieri Calabria comunque ha sfornato questa buona prestazione, se lo merita anche probabilmente andrà via a parametro zero, però vabbè, dai, il suo l'ha fatto. Cosa che secondo me non ha fatto Terracciano. E ragazzi, anche con un 6-1 mi rifiuto di dare la sufficienza a un giocatore che non mi piace per nulla. Gli do 5-5. Eh sì. Voi direte, sei pazzo, dai, 6-1, dai, almeno dagli qualcosa. Niente ragazzi, non mi piace, non mi piace, non mi piace. Eh, lo trovo proprio insipido, insignificante, cioè proprio se c'è o non c'è non cambia niente. Cioè a sto punto veramente facciamo giocare qualcuno della primavera, proviamo qualcuno di Milan futuro, magari qualcuno, cioè di Menez, ma perché non gioca mai? Ma proviamo qualcosa di diverso, tanto sto Terracciano è quello che magari si sta rivelando pure utile perché ogni tanto lo butti dentro e ti fa anche la partitina da 6. Però, buh, anche ieri col Sassuolo, almeno lì fatti vedere, niente, cioè Calabria almeno col Sassuolo l'occasione, la sfrutta, per quanto possa essere scarso, ma almeno col Sassuolo lo vedi. Terracciano non si vede neanche col Sassuolo, buh, giocatore veramente insignificante. Passiamo adesso al centro campo, Fofanà, 6-1, entra, spacca tutto e poi se ne va. Lanci incredibili da 80 metri, ormai è diventato un giocatore incredibile, vi ricordate quando criticavo il passaggio di Fofanà perché vedevo che sbagliava troppo passaggi, adesso è diventato anche uno che lancia tranquillamente, fa dei cambi gioco incredibili e poi è andato a recuperare i suoi soliti 4, 5, 6, 7, 8, 9 palloni e quindi altra partita di grande intensità, Fofanà ormai è diventato un giocatore imprescindibile per questo Milan. Come è diventato imprescindibile per questo Milan? Tiziani Reinders, voto 8 o più perché ormai lui fa un altro sport. Soltanto per quell'assist già meriterebbe praticamente la copertina della partita. perché fa un assist incredibile con una visione di gioco, tempo di gioco, piede, educato ed è veramente perfetto. Poi il movimento lì di Ciucuese, anche quello è perfetto, è tutto bello, tutto fatto bene, però ragazzi Reinders sta diventando un giocatore che ormai gli sta riuscendo tutto. Credo che più sia acquisendo sicurezza in se stesso, più sta dimostrando le sue qualità e questo fa capire quanto la sicurezza e la testa nei calciatori sia importante. Anche quando ha fatto gol, ha tirato con una semplicità disumana, cioè si è coordinato in un millesimo di secondo, boom, la palla è andata lì, il portiere non ha capito manco dove stesse arrivando quel pallone. E poi, anche sul 4-0, anche a partita finita, è rimasto in campo per un po' di tempo, più di Fofanà, e comunque continuava a correre, continuava a smarcarsi, continuava a farsi vedere. Non è che dici, no, vabbè ormai la partita è andata, no, no, lui continuava, non si è fermato un secondo. Infatti alla fine ha detto, oh, per favore, toglilo dal campo perché questo non si risparmia mai. Cioè, Fofanà e Renders potevano giocare in punta di piedi ieri, perché no, sono quelli imprescindibili per il mina in questo momento, sono quelli che non si riposano mai. Ma loro, niente, danno sempre il 101%, anche in queste partite, quindi questo fa capire che grande mentalità hanno. Love to Chick li do un 6 perché non mi è dispiaciuto, sicuramente siamo lontani dal vero Love to Chick, siamo lontani dal giocatore che prendeva il centrocampo e lo dominava, però ieri ha fatto la sua partitina, ha cercato anche di fare quell'assist lì filtrante. Diciamo che ce l'abbiamo nella rosa, dobbiamo cercare di sfruttarlo in questo momento. Sicuramente è il centrocampista che ha qualcosa in meno, ha fatto anche qualche scalata dietro a Musa, che Musa si sta rivelando molto utile anche quando è entrato, ha fatto vedere comunque tanto dinamismo, cosa che Love to Chick non fa vedere. Ha fatto un paio di accelerate, però siamo veramente lontani anni luce. Sicuramente la prestazione è sufficiente, però ragazzi da Love to Chick mi aspetto molto di più e in più mi aspetto anche un qualche golletto, perché ieri l'ha pure sfiorato il gol di testa, peccato, gli sarebbe servito probabilmente segnare. Ciucu Eze, voto 8, bello mio, doppietta, finalmente il Ciucu, spero che gli dia fiducia, lo dico ogni volta che fa una buona prestazione, lo dico ogni volta che fa gol, ma non riesce mai a fare quel salto di qualità, perché ce li ha le qualità, ma non riesce a essere costante. Gli manca quello a Ciucu Eze, deve essere decisivo, non in una partita e poi tre no, non in una sì e poi quattro no, deve essere costante. Quindi è questo quello che manca a Ciucu Eze per diventare il titolare del Mina, perché se siamo arrivati al punto che Fonseca si deve inventare Musa, quello per l'equilibrio, per le cose, Ciucu Eze è comunque uno che corre, l'equilibrio te lo dà, non è che ti squilibra la squadra, certo non è Musa che ha dei compiti difensivi molto superiori a quelli di Ciucu Eze, però se Ciucu Eze diventa quel tipo di giocatore che ti salta l'uomo, che ti fa gol, beh non lo togli più ragazzi, e con Ciucu Eze pulisi che le ha o lì in avanti, beh ti puoi divertire tanto, quindi speriamo che Ciucu Eze riesca a sbocciare del tutto, perché anche ieri, no, ieri ha fatto tutto bene, ok, uno mi può dire, vabbè ma col Sassuolo che ci vuole? Intanto devi farlo, ok, e lui l'ha fatto, si è inserito bene nel primo gol, bellissimo, è stato bravo, ok, quando gli ha fatto l'assist Reinders, è stato bravo, poi nel secondo tempo diciamo la partita un po' calata di ritmo, però lui era sempre quello che voleva fare, c'ha sempre sta roba comunque che non sai mai se va a destra o a sinistra, perché se torna a destra poi crosta col destro, se no rientra sempre col sinistro per fare quei tiri a giro, è un giocatore comunque imprevedibile nel dribbling, io spero, perché non mi basta questo ovviamente, cioè per me questo è la base di Ciucu Eze, da qui poi voglio vedere la prossima partita di nuovo così, poi di nuovo così, poi di nuovo così, deve diventare titolare del Milan, finché non diventerà un titolare del Milan vuol dire che non è riuscito a fare quello scatto di continuità. Raffaleao, voto 7 e mezzo, ieri era praticamente imprendibile, il giocatore del Sassuolo che non mi ricordo nemmeno il nome, che poi è stato ammunito, doveva essere ammunito praticamente due volte, non ci ha capito nulla, poverino è stato sostituito, poi penso sia andato in analisi per tre mesi, perché ieri non ci ha capito niente. Ieri Leao era concentrato, era volenteroso, voleva fare gol, ha fatto anche un bel gol, ieri mi sono dimenticato pure di parlare del gol di Leao, però ha fatto un bel gol con un bel movimento, ha calciato bene in porta, bello, teso, forte, non quei tiretti del cavolo che fa ogni volta, ha fatto un bel tiro, una bella botta, una stecca secca e in più ogni volta che puntava l'avversario era davvero devastante. Quindi ha fatto il suo compito, era quello ieri il compito dei vari Fofana, rendersi Leao di non far sottovalutare la partita, di far capire Fonseca con quella formazione, mezza turnover, mezza no, che la partita era importante e chi bisognava vincere bisognava chiuderla subito per poi far rifiatare i calciatori. Leao è stato perfetto ieri. Abram, voto 7, gol, assist e sta diventando un giocatore utile per questo Milan, io ho detto che Morata mi piace sempre dietro la prima punta, beh, se Abram è questo che fa anche gol, si è sbloccato, ha fatto anche un bel gol, perché il gol di Abram non è semplicissimo, è stato molto bravo lì a cercare di, ormai si era tipo mezzo allargato e ha fatto questa specie di cucchiaio per saltare il portiere, è stato bravo, ha fatto anche un bel assist, aveva fatto anche assist a Pulisic nell'altra partita, quindi diciamo un Abram che si sta rivelando sempre più utile per questo Milan, è arrivato l'ultimo giorno di mercato giusto così per buttarlo nella rosa, sicuramente non è un calciatore che ripeto mi fa impazzire, non è che ho cambiato idea su Abram, però devo essere sincero, il Milan quando ha un centravanti lì davanti, uno fermo in area di rigore, è sicuramente più pericoloso e mi piace molto di più, quindi io continuerei magari a riproporre di nuovo la possibilità di vedere Morata dietro Abram, potrebbe essere molto utile. I giocatori ragazzi che sono subentrati non li do un voto perché sono entrati ormai a partita già bella finita, bella che è andata, comunque Musa mi è piaciuto come entrato sempre con la solita voglia, Okafor dovrebbe fare un po' di più per farsi vedere, Okafor ogni volta che sta lì per fare quel salto poi fa delle prestazioni in cui nessuno se lo caga più, però io sono sempre convinto che Okafor sia un ottimo giocatore. Mi è dispiaciuto non vedere Camarda in campo, non ho capito il cambio di Pulisic, non aveva senso mettere Pulisic in quella partita, a questo punto gioca con le due punte, metti Camarda magari e fargli fare un po' di esperienza, non l'ho capita, magari se l'ha spiegata dopo in conferenza stampa fatemelo sapere, però io mi sono visto l'intervista di Fonseca e non ne ha parlato, fatemi sapere perché non ha fatto entrare Camarda se qualcuno di voi lo sa. A Fonseca gli do un bel 6,5 perché uno può dire la partita era semplice, era il Sassuolo B perché il Sassuolo veniva con le riserve, ma noi siamo il Milan e quando giochiamo in casa ci complichiamo sempre la vita da soli, quando troviamo queste squadre ci complichiamo sempre la vita da soli, quando facciamo turnover era sempre un disastro, questo è il turnover che ci piace, il turnover giusto, quello di far riposare qualche calciatore, riuscire a chiudere la partita con i giocatori importanti, con i giocatori decisivi, riuscire a rivitalizzare dei giocatori che magari non stanno giocando troppo tipo Pavlovich, tipo Ciuqueze e poi far rifiadare i vari Fofanar, Enders, Leao che sono stati sostituiti nella partita. Quindi diciamo che è stata una preparazione, una esecuzione perfetta di Fonseca in questa partita. Ora, sicuramente dalle prossime partite fare turnover non sarà giusto perché forse incontreremo la Roma probabilmente e quindi io voglio vincere la Coppa Italia come ho detto ieri e non era una roba del tipo, ah ti sei saltato perché hai vinto col Sassuolo, no no, la Coppa Italia io l'ho detto già prima, per noi è l'obiettivo, purtroppo in un campionato in cui non siamo in lotta per lo scudetto, la Champions League più vai avanti meglio è, ma non è che puoi portare a casa un trofeo, poi non si sa mai nella vita cosa potrebbe mai succedere, però la Coppa Italia diciamo che è l'obiettivo più probabile. C'è anche la Supercoppa italiana, però onestamente non è un trofeo che mi fa impazzire, però ci parteciperemo e proveremo a vincere, però secondo me la Coppa Italia alla fine è qualcosa giusto per non terminare la stagione a zero titoli che è sempre importante. E siamo lì, ce la possiamo giocare su quelle le squadre e il Milan nella partita secca ha dimostrato di essere una squadra che può farcela. Quindi tutto bene ieri, tranquilli, like l'avete lasciato, iscrizione l'avete messa, ciao!